Servirà a controllare il rischio sismico del territorio la nuova rete di monitoraggio realizzata da Edison all'impianto di stoccaggio gas di San Potito a Cotignola. La rete, costituita da 15 sonde di rilevamento sismico, sarà pronta quest'estate. Il progetto, supervisionato dall'Università di Bologna, servirà anche a migliorare le conoscenze scientifiche sulla sismicità. L'impianto di stoccaggio ha una capacità di 450 milioni di metri cubi di gas naturale. La rete microsismica del giacimento di stoccaggio San Potito a Cotignola è il frutto, se vogliamo, anche delle recentissime migliorie della sicurezza ambientale che il nostro Paese si è dato. Si tratta di attrezzare il territorio con una serie di stazioni microsismiche, come sono dette in gergo tecnico, che rilevano qualunque attività di tipo microsismico nel sottosuolo dovute a qualsiasi evento. Si tratta di una rete avanzatissima, la prima a livello nazionale così precisa, che sarà implementata attraverso la costruzione di 15 stazioni poste sul territorio, riuscendo a cogliere qualunque possibile eventuale movimento dovuto all'attività antropica che c'è su questo sito. È un progetto importante perché consente di monitorare un'eventuale microsismicità dell'impianto, ma contestualmente consente di monitorare qualsiasi altro tipo di sismicità presente sul territorio.